Bisognava vincere per evitare inutili rischi e alla fine i tre punti sono arrivati per il notaresco che passando per 2 a 0 a Pietra Melara sul campo dell'Aurora Alto Casertano ha timbrato la salvezza dopo una stagione disputata ben al di sotto delle aspettative. La formazione rosso-blu partita per lottare per la vetta dopo un brutto girone di ritorno è scivolata ai margini della zona calda evitando con i sei punti conquistati negli ultimi 180 minuti di precipitare nella zona caldissima della classifica. Nel pomeriggio di Pietra Melara al cospetto di una formazione che non aveva molto da chiedere al torneo i ragazzi di Epifani hanno vinto con grande disinvoltura. Avvio di partita come da copione con il notaresco in avanti al quinto Massarotti prende la mira dai 25 metri ma conclude a lato al dodicesimo Pampano imita il compagno non inquadrando lo specchio della porta. I padroni di casa non stanno a guardare e al diciassettesimo Romeo due passi da sciva si divora il gol del vantaggio mandando il pallone incredibilmente fuori. Gara a viso aperto con il notaresco che si rivede al ventitresimo con una bella rovesciata di scimia in area che non sorprende però l'estremo di casa Vitiello. Al ventisettesimo ancora Aurora Alto Casertano ad un passo dal vantaggio con l'incornata di un soffio alta di Palumbo. Spinge la formazione del presidente Salvatore Di Giovanni senza però riuscire a pungere e facendo solo possesso palla. L'ultima emozione del primo tempo arriva così al quarantaduesimo con un tiro di un soffio alto di Maio dal limite. Nella ripresa non c'è partita pronti via e alla prima azione dopo neanche 60 secondi c'è un lancio lungo sull'out di sinistra per Pampano che con una conclusione chirurgica fa 0 a 1 regalando alla sua squadra il gol salvezza. All'ottavo scimia fa tutto bene chiamando alla parata Vitiello. Gara in disinvoltura per la formazione abruzzese. Un minuto dopo infatti Maio in area a trovare il miracolo del portiere Campano. Al decimo Monteleone Mura invece un tiro di Pampano con i ragazzi di Epifani che restano in controllo della gara segnando il gol del raddoppio della sicurezza al ventiquattresimo con Valenti che dopo un batti e ribatti sulla linea di porta deve solo appoggiare il pallone in rete. Il 2 a 0 mette a questo punto al sicuro e rosso blu che vedono il traguardo salvezza ad un passo anche perché l'aurora alto casertano non ha la forza di reagire con al 94esimo la certificazione della permanenza in di del notaresco. Onori e meriti anche alla formazione campana che ha onorato il campionato così dalla prima all'ultima giornata. La salvezza del notaresco è ormai certezza ma da domani si inizierà a pensare al futuro che presenta molti punti interrogativi a cui bisognerà dare risposte entro le prossime settimane. Epifani è finita è arrivata questa salvezza risultato minimo della stagione ma importante era almeno mantenere la categoria? Sì sì è diventato un risultato importante perché noi abbiamo partito sicuramente per fare un campionato diverso poi ci siamo ingarbugliati a trovarci in questa situazione. Se pensate che abbiamo fatto 49 punti ci siamo salvati dall'ultima giornata quindi un campionato veramente molto strano difficile però lo archiviamo siamo contenti perché poi quando si mettono così le cose possono prendere una piega brutta e noi siamo stati bravi nelle ultime due partite a fare a fare quello che dovevamo fare portare a casa a mantenere la categoria e siamo contenti per tutti per il presidente che è la cosa più importante. Abbiamo fatto tanti errori tanti errori di valutazione abbiamo fatto tanti errori noi e poi se ci mettiamo a raccontare tutto quello che ci è capitato durante l'anno tra covid e mancanza di giocatori il sabato sera sembrava tutto fatto ad arte. Sono quelle annate che purtroppo faccio parte del calcio da tantissimi anni che sono quelle annate che prendono quella piega e se non le rimetti in piedi diventano difficili. Noi siamo stati bravi alla fine c'è grandissimo rammarico c'è tantissima delusione perché volevamo fare qualcosa di diverso però purtroppo è andata così poi ha vinto l'area canatese che ha meritato ampiamente di vincere e adesso è importante ripeto mantenere la categoria ce ne andiamo a casa stasera con tanto rammarico tanta delusione però siamo contenti alla fine di aver fatto questo piccolo questa piccola cosa importante che è mantenere la categoria. Ma il futuro è domani adesso staccare un attimo la spina proprio clamorosamente perché veramente è stato un anno ma anche i ragazzi una settimana non voglio sentire niente perché credetemi è stata allogorante è stata dura e alla fine mi sono scappato anche un po di lagrime perché è stato tanto tanto dai